Salve a tutti ragazzi, sono Kianigmark e questo è un nuovo video sul canale dello Shogunato Italiano e siamo qui su questa campagna su Total War Shogun 2 al 26esimo episodio ed oggi dovrebbe essere venerdì vi dico solo che adesso me le sono scritte su un foglietto queste cose perché se no rischio di sbagliarmi e di dire cavolate allora, qua lag strano io manderei qui una bella navetta a vedere oh pirati waco, ciao pirati waco, dovremmo vincere noi uh, la rotta ce l'hanno lasciata c'era gente che stava penando per il fatto che non avessi mandato nessuna nave lì ancora adesso l'abbiamo mandata qui non sto più reclutando, può essere... oh, male 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 lo so che volete le navi commerciali quelle normali ma... allora, ah, abbiamo la seta abbiamo tutto adesso, qui abbiamo preso tutte e quattro le rotte commerciali, quelle vicine ottimo nella città non posso costruire nulla e quindi, di nuovo, buon venerdì mi sono perso per questa cosa che mi sono accorto, non mi ero accorto nell'episodio precedente e vi ricordo di lasciare un mi piace a questa serie se vi sta piacendo giusto per avere il vostro feedback perché, come ho detto nello scorso episodio di ieri ci siamo un po' persi tra commenti e cose non ne vedo più e vi ricordo che domani spiegherò in un vlog bene cosa voglio fare con il canale come voglio dividere i video eccetera, eccetera, eccetera cosa che vi potrebbero interessare possiamo passare il turno per adesso e vedere come si sviluppa la situazione con i nostri alleati Kikawa o Kikawa uh, urakami che ci bloccano un porto proprio quello dove c'è la nostra flotta, tra l'altro molto intelligente come mossa lo shokunato starà chiedendo probabilmente aiuto agli altri per dichiararmi guerra ipotizzo, ma non ne sono sicuro no? ah, forse sta cercando di catturarmi la spia che ho verso Kyoto tentativo di conversione appunto ok, e invece la nostra spia è talmente forte che assassinerà anche quest'altro monaco vediamo se ce la fa quindi sì, sempre nei momenti morti vi ricordo queste cose vi ricordo dei mi piace delle condivisioni a chi può interessare e di farmi sapere cosa ne pensate secondo me ce la fa vediamo se ce la fa sempre la geisha in ogni accampamento ci sta un soldato che pensa alle geisha no vediamo sì, ce la fa, ce la fa non si è svegliato dove sarà il monaco? eccolo qua che sta cenando questo è quello in cui lo avvelena mi sa, vero? yes oh, però sì, 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 è andata, è andata povero monaco e niente, abbiamo visto lo fa? sì, lo fa abbiamo già visto questa uccisione, penso ma comunque la tengo perché vi piacciono i video allora quindi vi ricordo sempre quello che vi ho già detto non voglio essere ripetitivo perché ovviamente poi vi annoierei qua non c'è nulla da vedere tranne l'esercito nascosto e a Waji la taverna ah, forse per quello che ho aumentato l'ordine pubblico anche e sapete che vi dico ampliamo un po' tutte le taverne di livello basso che se ce ne ho qualcuna così iniziamo a fare più soldi sul lungo andare però qua le ho già ampliate ovunque ampliate vediamo un po' eh taverne qua posso ampliarla qua posso ampliare la chiesa potrebbe essere utile però abbiamo già la missione no, non spendiamo soldi inutilmente qui la chiesa pure però tanto qua dovrei stare oddio, qua forse fai la ah no, ho già la missione qua allora no, niente e allora ampliamo anche qui a posto siamo usciti sotto i 10.000 ma va bene guadagniamo comunque 6.000 a turno con l'ordine pubblico perfetto se mettessi a molto alto guadagnerei 11.000 ma ripeto sapete come la penso a livello ormai dopo 26 episodi sapete come la penso a riguardo allora passiamo al turno ah, è vero c'era questo esercito che dovrebbe essere facciamo così ok 1, 2 di qua 1, 2 di qua perfetto così questo dove l'avevo mandato? ah, bizzen, è vero me l'ho dimenticato pure il mezzuke che turno siamo? ora devo vedere a che turno siamo uh, cosa hanno fatto? hanno cattuato me l'ho dimenticato anche il blocco al porto ragazzi sono pessimo sono pessimo me l'ho giustiziato a il povero mezzuke che stava là missione aumenta di livello vabbè non ci possiamo far nulla ormai l'hanno preso ehm gesuita più allo zero una conversione province e più allo zero una conversione province convertiamo subito qua tutto il cristianesimo prima lo facciamo meglio eh guardate qua qua dovrò rimanere fermo finchè non ci sarà il momento più opportuno per attaccare strano che non mi abbiano dichiarato guerra a tutti è molto strano io mi ricordavo dovrebbero dichiarare guerra a tutti quando prendo Kyoto no, di solito è così boh stranissima questa cosa però non mi lamento per niente ciao queste navi che livello sono? niente allora ciao sì sì addio addio non ho soldi da spendere per cavolate allora qua qua posso mandarne un paio giusto a supporto nel caso mi attacchino tanto i guadagni dovrebbero essere gli stessi identici sì grosso modo ok guardate quanto guadagniamo a turno con le tassazioni normali non l'avreste mai pensato eh non l'avreste mai detto ok qui io qua vorrei un generale quanti anni ha questo? 52 eh potrebbe no dovrebbe arrivarci in guerra contro lo shogunato però uh guardate qua come avanzano i beshio alleati gli urakami in guerra quindi questa provincia mi sa che gli urakami ci salutano questa battaglia e non mi va per non mi sta andando per niente male non mi sta andando qua in 7 turni ho studiato l'architettura epica che turno siamo? ecco che appunto non mi ricordavo questo 109 ok sto registrando da una decina di minuti circa un po' di meno un po' di più no un po' di meno scusate passiamo il turno perché io registro di seguito no? quindi non blocco mai la registrazione audio e devo fare il calcolo togliendo a che punto ero arrivato nella registrazione prima che voi ovviamente vedete che il video dura 14 minuti ma io magari ho iniziato 2 minuti prima per sincronizzare audio esterno al video ma sono cose che non so quanto possono interessarvi allora qui ormai stiamo andando verso la fine comunque si vede perché non ci sono più non ci sono più nemici cioè non ci sono più nemici sono pochissimi nemici sono enormi olle prendi questa provincia a chioto in 10 turni ah così me lo dici gesta ispirata non so quanto convenga cercare di prenderla in 10 turni invece che arrivarci piano piano ragazzi mi sa che non farò questo obiettivo qui perché non ci conviene proprio c'è una mezza follia un mezzo suicidio perché dovrei arrivare là con due eserciti adesso che che si fa perché ce li ho da qua ci metto poco con loro ho pure gli accordi quindi passo eh i yurekami qua hanno un bel esercitone però passo qua sbarco ci metto tra 7 turni l'ho presa però non so quanto convenga vorrei arrivare piano piano vorrei arrivare perché se poi mi attaccano mi fanno di contropiede chiamiamolo contropiede è finita perdo territori 1 a turno perdo un territorio non è proprio il massimo sabotiamo l'esercito giusto per così sale di livello magari no non è sale di livello peccato ah potevo ammazzare il monaco ma quello di lero troppo alto cavolo l'assedio di chioto penso che non lo giocherò cioè penso lo vorrei giocare però dipende da com'è perché se è troppo grande oddio no forse lo giocherò comunque perché è figo dipende se è l'ultima provincia che prendo per l'obiettivo lo gioco se lo devo conquistare prima non ha senso qui siamo messi pure con troppo a shikaru in realtà per i miei gusti cibo ne abbiamo in abbondanza tra l'altro le ricerche di cibo sono arrivate al top non posso più ampliare le fattorie diciamo ok facciamo un altro turno che vi saluto dopo questo turno quando avrò fatto tutto non appena finisce non appena lo passo allora la situazione ah non succede proprio nulla non sta succedendo mia signora nave nera ok sapete che vi dico sapete che vi dico questa ve la faccio vedere questa battaglia cerchiamo di prendere la nave nera la cerchiamo di conquistare perché tanto non sta succedendo nulla almeno una battaglia a me non piacciono battaglie navali sia ben chiaro però questa contro la nave nera potrebbe essere interessante là ne ho pure parecchie allora ne disimpegniamo disimpegniamo le cinque le quattro più forti e ce la giochiamo ragazzi perché non voglio farla in automatico voglio farvela vedere proprio dai tanto scappa non scappa ok meglio così mi fa pure perdere meno punti di movimento allora ragazzi voglio un po' di interesse per questo video perché vi sto facendo vedere la nave nera sicuramente questo episodio si sarà chiamato la nave nera ne sono sicuro perché non ho chiamato nessuno la nave nera no sicuro la nave nera si chiamerà questo episodio quindi sapete il perché del titolo adesso e ragazzi vi ricordo quindi di lasciare il mi piace perché questo episodio sarà particolare vi sto facendo vedere una battaglia che io non avrei mai giocato non l'avrei mai fatta nella campagna mia e ci diamo direttamente sul campo di battaglia sul terreno di gioco insomma nel mare aperto qua dove saremmo con questa nave nera a fra poco ragazzi eccoci qui quindi dobbiamo scegliere le condizioni meteorologiche secco mi va bene inizia lo schieramento non è che abbiamo molto da schierare in realtà allora lui sta lì a farsi i cavoli suoi quindi noi ci piazziamo tutti di fiancata perché così sparano tutti i nostri cannoni cioè 5 cannoni su 10 sparano e con la nave principale quella più forte nel corpo a corpo che ha 22 cerchiamo di andargliela a prendere e di assaltarla perché se non sbaglio è l'unico modo in cui si cattura in una battaglia una nave se tu ci sali sopra e la fai arrendere l'altra allora proviamo un po' questa tattica molto strana sperando che non mi massacri perché comunque guarda l'equilibrio di forze lo da a me ma ha molti più cannoni quella nave rispetto a noi rispetto ai nostri e ha pure più portata se non sbaglio quindi vediamo se riesce a tirare no deve avvicinarsi allora ci vediamo quando sarò riuscito finalmente ad arrivare a portata vedete ci ha già sparato e noi riusciamo a a contraattaccare ma ci sta massacrando vedete guardate quante cannonate tira quella nave guardate dobbiamo mettere la riparazione subito e tirare con le altre per coprire ok tu vai in modalità a bordo e vai di qua velocemente anche vi faccio vedere la nave però perché è figa troppo bella allora guardate qua come sta tirando sta tirando sul generale maledetto guardate qua che omini olè però la stiamo già iniziando ad affondare bravi bravi sparate tutti sparate dove state andando ok te qua questa devi girare che sta facendo quella nave impazzita guarda guarda come mi va in fuga il generale queste navi sono incontrollabili vanno dove cavolo gli pare le navi cerchiamo di tirarla ok qui così qua devi ripararti se no abbiamo perso porca miseria perché tira su questa sta tirando fermati e tira su quella oh spara spara tenetela impegnata ok qua velocizziamo due per anche quattro sta sparando sulla mia principale è maledetto proprio sta sparando sulla nave del comandante ragazzi qua facciamo così forse vuole proprio bersagliarmi la mia però ci proviamo a saltarla vediamo se riusciamo senza che vada in fuga ormai ci stiamo avvicinando abbastanza no 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 fermi tirate tutti tirate qui non sono quasi più a portata perché si sta muovendo il maledetto guarda proprio mi bersaglia il generale è un maledetto no 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 riparati 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 non è possibile che non riusciamo a spaccargli niente avvicinati assaltiamo con questa proviamo proviamo questa tattica vediamo ok come vedete ci ha continuato a bersagliarmi il generale sono dovuto scappare col generale ha perso pure un bel po' di uomini e sto di riparazione però mi sa che andrà in fuga comunque anche con la riparazione e con l'altra nave stiamo cercando di oh ha cambiato il bersaglio grazie al generale finalmente ci spara l'altra sparate sparate spara no 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 non abbordare spara e tu abborda vediamo che succede adesso questi uomini hanno più attacco corpo a corpo dei suoi vero non mi fa vedere i suoi comunque dovrebbero averne di più ripara questa riparatevi tutte navi ecco qua mamma mia ragazzi siamo riusciti ad abbordarla quindi se non vanno in fuga prima guarda qua che danni ci fa sparando così ravvicinato rampini speriamo bene questi hanno anche noi abbiamo anche dei moschettieri ragazzi guardate mi sono ricordato proprio perché non volevo giocare le battaglie navali contro le navi nere perché si buggano molto spesso c'è questo bug che è ricorrente non capita solo a me che nel momento in cui c'è l'attacco c'è l'abordaggio della navi nera crasha il gioco infatti il gioco è crashato ci ritroviamo qua ragazzi non so che cosa dire guardate siamo al 111 turno quello di prima era al 110 una volta passato era comparsa la navi nera come voi saprete o forse non lo sapete ma la navi nera è un incontro casuale diciamo un'eventualità infatti è nato un figlio che prima non era nato un figlio se non ricordo male e quindi non è neanche ricomparsa la navi nera non posso neanche provare a riprenderla con la battaglia veloce magari quindi ragazzi mi dispiace la navi nera l'avete vista nel nel diciamo in quella battaglia ma è come se non fosse mai esistita per la campagna che stiamo facendo adesso oddio ah sono alleati questi pensavo fossero nemici scusate stavo per fare una cavolata e quindi niente io non so neanche la quanta che sto registrando sinceramente perché che è successo che ho dovuto rifare tutto da capo ho dovuto far ripartire la registrazione quindi so che più o meno avrei terminato il video dopo la battaglia e lo dovrò terminare adesso che vi devo fare è crashato non è colpa mia ragazzi mi dispiace proprio avrei voluto farvela vedere la navi nera catturata ma proveremo più avanti magari a prenderla che vi posso dire ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto nonostante questo piccolo inconveniente vi ringrazio per il supporto che stai dando a questa serie spero di vederne un po' di più nei prossimi video in questo video buon venerdì perché oggi è venerdì ma l'ho ridetto ma ormai per me è iniziato un nuovo video capito e quindi per questo ventisesimo episodio è tutto vi ricordo che domani ci sarà un vlog dove spiegherò meglio tutte le le particolarità del canale le particolarità il programma del canale da qui a settembre metà settembre circa adesso devo un attimo vedere in base a come distribuisco i video ma ho già fatto un bel programmino per voi quindi ci vediamo domani vi ricordo rimanere sintonizzati per quel video che è molto importante e interessa più voi che me perché i video che faccio io lo so io insomma spero di informare voi con quel video e per oggi è tutto vi ricordo di lasciare 40 mi piace per arrivare per il prossimo episodio per arrivare a quota tot quota limite e di nuovo per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao ciao ciao